apri ancora e scendi è peggio in discesa, è peggio in discesa, prendi due cornazze andiamo in finita la gattera io aspetto il suo, perché ha avuto un problema che sembra strano è arrivato fino a qui, e adesso è una sciuta, è una rampa in piede che si è buttata ora aspetti a vedere ma era lì, è lì qua il paolo andavo a vincereci, vincere la stagione di gara ah, fare il giro state finita vi raggiungo dopo la stagione di gara